Il fatto è che nel 2024 si va all'asta e il fatto sta anche che ad oggi non sappiamo ancora come andremo, ce lo diranno nell'arco di probabilmente due mesi, tre mesi da oggi. I balneari temono di non reggere la concorrenza dal 2024. Le aste saranno inevitabili, altre proroghe impossibili a deciderlo nelle scorse ore. Il Consiglio dei Ministri e così i 900 stabilimenti balneari in Toscana, per la metà concentrata in Versilia, vedono molte piccole imprese familiari sparancarsi il baratro dell'incertezza futura. Che comunque non è stato riconosciuto il lavoro fatto negli anni dalle nostre aziende. Però per queste, dice, saranno indennizzate. Sulla storia degli indennizi bisogna capire, bisogna leggere approfonditamente quelli che saranno poi dopo i resoconti della discussione di Parlamento e poi dopo gli applicativi. Soddisfatti della decisione del Consiglio dei Ministri, i comitati di mare libero? Noi ci aspettiamo molto, intanto una discussione parlamentare ampia e condivisa di accesso alle spiagge e di accesso al mare, che dovrebbe essere fondamentalmente sempre libero e dovrebbe essere legato al fatto che le concessioni in Italia, come in tutta Europa, dovrebbero essere appunto un'eccezione e non alla regola. E ciò che ha fatto infuriare i proprietari dei bagni è la questione dei prezzi calmierati. Il caro ombrellone è un'azione populista del governo per dire abbiamo cercato di dare una linea. I prezzi degli ombrelloni li fanno i servizi. Io l'ho sempre detto, in Versilia ci vieni con la Panda e con la Ferrari, cioè ci puoi venire con quello che ti pare e al mare con 25 euro come andarci con 300. Cioè non esiste un prezzo calmierato. I prezzi calmierati andavano di moda a tempi della guerra. Cosa pensate degli stabilimenti balneari all'asta? E' una bella cosa. Ecco, giusta. Secondo me no. Secondo me le multinazionali straniere è bene che stiano a casa loro. E' un po' triste nel senso che se non viene comprato si va un po' a spopolare. Era ora? Era ora. Direi di sì. Penso che la concorrenza sia la cosa migliore. Tutti sullo stesso piano. Non è che perché è sempre stato così bisogna rimanere sempre così. Perché lo Stato ha delle bellezze naturali che è giusto che sfrutti. E che non devono andare a rimpinguare i margini che sono stati negli anni 60, 70, 80, 90, 2000, molto alti. Non parliamo di versione fiscale, perché se apriamo anche quel capitolo lasciamo perdere.